Come se avessi avuto la temperatura 39 Invece la provavo ed era 35 e mezzo circa Avevo 32 anni Come combattere una guerra contro se stessi Mi veniva detto che non ci sarebbe stata nessuna cura Non è riconosciuta nessuna forma di invalidità Noi fibromi agici esistiamo e vogliamo essere curati Non è riconosciuta nessuna cura